Per parlare di trattamento dei dati personali dobbiamo prima correttamente identificare cos'è un dato personale. Bene, nella norma questo è identificato in maniera molto semplice e lineare, è impossibile sbagliare. Un dato personale è qualsiasi informazione che riguardi persone, società, enti, associazioni, tutte le entità fisiche che è possibile pensare, innanzitutto naturalmente alle persone, ma anche le società, gli enti, le associazioni e tutto quello che è tutti gli attori del nostro panorama sociale. Quindi non è possibile fare un errore sul cosa si intende per dato personale. Dato personale è esattamente qualunque cosa, qualunque informazione relativa a una entità. Entriamo però nel dettaglio. Mettiamo di pensare a una persona che non conosciamo, un completo e perfetto sconosciuto per noi e cominciamo a mettere insieme un po' di dati che raccogliamo su questo individuo. Ecco, in primo luogo il nome, un nome di fantasia naturalmente, che però ci dà già una prima informazione su questa persona. Già sappiamo se dobbiamo cercare informazioni su qualcuno, abbiamo un nome a cui affidarci per far partire le nostre ricerche. Continuando a ricercare, scopriamo qualche altra cosa su Artemisio Gianchi, che è nato a Milano il 29 febbraio del 65, la data è volutamente sbagliata per non incorrere in indicazione di una persona realmente esistente. Sappiamo che possiede una punto grigia che ha una determinata targa. Bene, già abbiamo qualche informazione più dettagliata su questa persona. C'è qualcuno che, solo conoscendo la data di nascita, può cominciare a ipotizzare che questa persona si interessi a determinate cose. Ad esempio, una persona nata nel 65 di sesso maschile magari avrà una predilezione per la tecnologia. Sto facendo un'illazione, ma esistono degli studi ben precisi che consentono di correlare al sesso e data di nascita già delle informazioni di marketing. Sappiamo che macchina ha una punto grigia, quindi possiamo magari cominciare a ipotizzare qualcosa sui suoi gusti personali, sui colori che preferisce. Sappiamo anche la targa della sua macchina, che è un dato comunemente conoscibile, che però potrebbe essere utilizzato a fini non propriamente corretti, magari per identificare la posizione di Gianchi esattamente in questo momento parcheggiato al centro commerciale vicino il suo ufficio, piuttosto che invece di essere all'interno del suo ufficio. Sappiamo anche qualche altra cosa, magari siamo sui colleghi datori di lavoro e sappiamo che Gianchi è a casa con l'influenza o con qualche altra malattia. Sappiamo che è iscritto a un sindacato. Già abbiamo delle informazioni di carattere diverso che ci permettono di sapere puntualmente qualcosa sulle idee politiche o sindacali di Gianchi e qualcosa sul suo stato di salute. Sappiamo anche che ha una condanna per qualcosa magari in passato da giovane ha avuto una giovinezza scapestrata e si è beccato una condanna, oppure è uno che abitualmente usa non tenere una condotta propriamente corretta. È comunque un'informazione che noi abbiamo e possiamo utilizzare per giudicare la personalità e la persona del nostro ipotetico, Artemisio Gianchi. Abbiamo raccolto, come abbiamo visto, diversi dati e ogni dato ha una diversa importanza e conseguentemente deve essere trattato e gestito diversamente. Il primo tipo di dati, la prima tipologia di dati a cui andiamo incontro sono i dati generici o identificativi. Questi possono essere dal nome e cognome o denominazione sociale nel caso di una società o di un ente della persona, l'indirizzo o la sede della società, il codice fiscale, anche questo è un dato generico, la fotografia, come vedremo, non è un dato sensibile, ma l'immagine di una persona, anche se identificata come dato generico, deve essere diversamente trattata, non può essere trattata nella stessa maniera con cui tratto il nome. La registrazione della voce di una persona, la sua impronta digitale e altri, tutti i dati che possono venirci, che possono venirci in mente. In particolare, i primi tre dati che vediamo qui, nome, cognome o denominazione, l'indirizzo o la sede, il codice fiscale, sono dati propriamente detti generici. Mentre invece già dati come la fotografia, la registrazione della voce di una persona, l'impronta digitale, l'impronta della retina o altre caratteristiche fisiche che ci possono venire in mente, sono dati già più delicati. Gli ultimi due sono identificati come dati biometrici e permettono di identificare univocamente una persona e quindi vanno trattati in maniera sicuramente molto più delicata e con maggiori accorgimenti rispetto al semplice nome. Mentre i dati generici o identificativi sono definiti in maniera non precisa dal legislatore, nel senso che sono da considerare generici o identificativi tutti i dati che non sono né sensibili né giudiziari, queste ultime due categorie di dati sono definite con precisione. Cominciamo a vedere quali sono per il legislatore da considerare i dati sensibili. In particolare sono quelli che possono rivelare la razza, l'appartenenza etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'appartenenza a partiti o sindacati, lo stato di salute, la vita sessuale della persona. Dati sensibili sono quelli che in particolare la cui circolazione e il cui utilizzo può essere di documento alla sfera personale e intima dell'interessato al trattamento di questi dati e quindi sono quelli su cui più influisce il concetto di salvaguardia di dignità umana perché sono quelli più vicini alla sfera intima della persona e che quindi particolarmente vanno trattati, particolarmente vanno tenuti riservati e trattati esclusivamente con il consenso dell'interessato, come vedremo nel seguito. Ultima categoria di dati esattamente definita dal legislatore sono i dati giudiziari. I dati giudiziari sono dati personali che ci consentono di rivelare l'esistenza di provvedimenti di casellario giudiziale sul nostro interessato, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, carichi pendenti o la qualità di imputato o indagato in determinate indagini del nostro interessato. Come vediamo anche questi dati sono dati che pur non essendo correlati alla sfera intima delle preferenze personali del nostro interessato, però raccontano una parte della storia della sua vita che gli può essere pregiudiziale se conosciuta nei confronti dei rapporti con gli altri, anche se in realtà se uno ha risolto tutti i suoi debiti con la giustizia potrebbe essere perfettamente, anzi si deve perfettamente considerare come tutti gli altri concittadini agli occhi della legge, però la conoscenza di dati di carattere giudiziario può creare pregiudizio nei confronti di questa persona. Per questo anche i dati giudiziari vengono trattati con particolare precisione e con particolare riservatezza e sotto particolari misure di sicurezza, come vedremo nel seguito. Quindi vediamo che adesso la nostra figura di Artemisio Gianchi possiamo definirla in maniera più dettagliata e più tecnica. Tutto quello che noi conosciamo della persona che abbiamo preso, nella persona assolutamente fittizia, ricordo, spero di non aver trovato un nome realmente esistente. Questi dati hanno una loro particolare configurazione. Abbiamo dati generici, quindi il nome, luogo e data di nascita e anche dati generici che sono relativi alla sua automobile, sempre dati generici però particolari, diversi rispetto ai dati semplicemente anagrafici. Conosciamo dei dati sensibili, sappiamo che è malato e sappiamo che è iscritto a un determinato sindacato e sappiamo che in gioventù è stato condannato per qualcosa di non meglio identificato. Quindi abbiamo una forte responsabilità nei confronti di Gianchi, conosciamo tante cose relative alla sua sfera personale, la sua sfera intima e dobbiamo tenere sotto controllo i dati che conosciamo utilizzarli nel modo corretto per evitare di creare un danno al nostro Artemisia.